Sì, sì, ogni notte qui è un far west, alle 3, alle 4, noi che abitiamo qua non si dorme, c'è niente da fare, è una situazione veramente preoccupante, perché si comincia con le zanne dell'elefante, ma poi non si sa doveva finire la storia, ci vuole più controllo del territorio, questo è un museo a cielo aperto. Quando c'è una forma di Vandalismo, è ovviamente completamente insensibili. Indesputabile. 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 Grazie.